Buongiorno, siamo con Valerio Redversa, uno dei protagonisti di questa partita, possiamo dire il migliore in campo della Virtus.Lemene. Dimmi un commento alla fine di questa partita. È stata un'ottima partita, ottima prestazione di squadra. Ringrazio intanto gli organizzatori del torneo, è una bella esperienza, lo è stata e suppongo che lo sarà fino alla fine. Faccio i complimenti anche alla squadra avversaria che ha lottato fino alla fine, ma soprattutto ai miei compagni che mi hanno servito, ci siamo aiutati, siamo stati in squadra e quindi faccio i complimenti. Ieri non ti abbiamo visto, ho sbaglio? Sì, siamo arrivati ieri. Infatti abbiamo visto la tua presenza in campo, una piacevole scoperta perché ha giocato, secondo noi, una grande partita. Ti ringrazio intanto. Siamo partiti ieri all'ora di pranzo, in quattro. Quando si gioca a questi livelli bisogna conciliare l'attività lavorativa e anche quella sportiva, amatoriale. Certo. Abbiamo terminato il lavoro alle 13.30 e quindi siamo partiti. Siamo subito partiti. Avevamo preparato già tutto, il prima possibile siamo arrivati. Ed è una piacevole scoperta anche per me essere qui. Perfetto, grazie e ti lascio andare con i tuoi compagni. Grazie. Ci vediamo dopo. Saluto a tutti. Grazie.